Grazie a tutti. Scusatemi un po' per l'accento francese, quello faccio del mio meglio, diciamo. Su questo tema dell'accoglienza dei rifugiati, che è di fondamentale importanza per tutti noi e per la società, desidero innanzitutto chiarire il contesto e la posizione in cui mi trovo a parlare di fronte a voi. Su questo tema sono stati pubblicati numerosi lavori di storia, di politologia e di sociologia. Oggi, davanti a voi, accenerò ad alcuni aspetti di questi lavori, non in veste di ricercatore, ma come individuo e come responsabile di un'istituzione universitaria, l'Ecole Normale Superiore. E' dunque in questa duplice veste che mi sono impegnato in alcune forme di azione pratica riguardanti l'accoglienza dei rifugiati universitari. Le mie considerazioni si articolerano quindi tra questi elementi concreti e alcune riflessioni più generali sulla genesi e la strutturazione delle azioni poste in campo. In particolare, vedremo che in Francia, benché lo Stato abbia saputo sostenere questa strutturazione a più riprese, spesso i primi passi sono stati mossi da piccoli gruppi di individui nel mondo accademico e nella società civile, come si dice. In questo contesto, spero che mi perdonerete se esordisco con un breve aneddoto personale che è all'origine del mio coinvolgimento e che ha avuto un ruolo nelle azioni che sono state successivamente intraprese all'Ecole Normale Superiore e non solo. Nel giugno del 2015, scosso come molti di noi delle condizioni in cui coloro che venivano chiamati migranti, e tornerò un po' più tardi sulla scelta di questa parola, quelli migranti, fra virgolette, fuggivano dal Medio Oriente per raggiungere l'Europa, mi sono imbattuto in un termine usato dal presidente francese François Hollande in occasione di un colloquio che aveva con il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. Ricorderete sicuramente le tensioni sorte tra Francia e Italia per la chiusura delle frontiere da parte della Francia, a Ventimiglia per esempio. François Hollande, in un discorso che voleva essere una dichiarazione di buona volontà, ma che purtroppo fu in gran parte smentita dalle azioni del governo dell'epoca, parlò di condivisione del fardello dei migranti. Sentendo pronunciare la parola fardello da un presidente, anzi da un presidente socialista, mi sono reso conto di quanto il quadro generale della percezione dell'immigrazione in Francia negli ultimi decenni sia stato distorto. e ho lanciato un appello per un cambio di prospettiva. Un appello a considerare che questi migranti non sono un fardello da subire o da distribuire, ma sono esseri umani coraggiosi che hanno bisogno di aiuto e che, d'altra parte, rappresentano dal punto di vista della cultura e dell'economia un'opportunità e un punto di forza per l'Europa del 2050. Non c'è nulla di ingenuo in questa posizione. Lungi da me negare la complessità dell'accoglienza di numerosi immigrati o della messa a punto di una politica europea ben coordinata. Tuttavia, se accantoniamo il termine fardello e cominciamo a rispettare le persone che hanno avuto il coraggio di fuggire in condizione molto difficile, da situazioni disperate, se accettiamo di leggere tutte le opere economiche e sociologiche che dimostrano il vantaggio a lungo termine dell'accoglianza di migranti per le società in cui trovano rifugio, se facciamo questi due passi ci troveremo allora pervasi da uno spirito diverso che invita tutti a rimboccarsi le maniche. Inutile dirvi che nel contesto politico francese il mio appello a cambiare il nostro modo di guardare i migranti ha scatenato un'ondata di forte opposizione estremamente coordinata, devo dire. Ma questa è un'altra storia, la lascerò a parte. Torniamo all'accoglianza degli studenti rifugiati. Nel settembre 2015 il team direttivo dell'Ecole Normale Superiore intorno a me ha deciso di lanciare un programma di accoglianza affidandolo a un gruppo di studenti dell'Ecole a loro volta già attivamente mobilitati sul campo. I nostri studenti, sia militanti che impegnati, avevano anche a cuore che la loro azione fosse tanto efficace quanto rispettosa. È stata loro la proposta di usare il termine studenti invitati per designare gli studenti accolti nel nostro programma. E ricordo ancora con emozione il seminario dell'Ecole in cui, per la prima volta, abbiamo avuto cinque studenti invitati in prima fila. Venivano dell'Afghanistan, del Sudan e della Siria. Erano lì in prima fila, ognuno accompagnato da uno normalista che traduceva per loro. Il tema di questo primo seminario verteva proprio sulla terminologia e sull'adozione nel panorama mediatico francese della parola migrante che è venuta in sostituzione a immigrato o rifugiato. I tedeschi, per esempio, hanno ancora un'altra parola usano flüchtlig, che è ancora un'altra connotazione. Queste evoluzioni di terminologie non sono mai neutrali e rimango convinto che l'adozione in Francia del termine migrante abbia avuto un accento specifico legato a una visione pressoché stagionale della migrazione imponendo un'immagine in cui il migrante è solo di passaggio prima di una nuova partenza a differenza dell'immigrato che si stabilisce in modo permanente. Il programma per studenti invitati è interessante in quanto prevede una griglia di intervento altamente strutturata in cui professori e studenti sono collegati nelle funzioni di tutoraggio con la missione di promuovere l'autonomia delle persone esiliate richiedenti asilo. Questa interdipendenza implica un prerequisito indispensabile per il proseguimento degli studi, l'integrazione dello studente esiliato in un programma ponte con l'obiettivo di conseguire un certo livello di conoscenza della lingua francese. Questo livello di conoscenza è indispensabile per poter rientrare nei programmi normali, se voglio dire, di studi nel mondo universitario. L'integrazione attraverso la socializzazione degli studenti viene incoraggiata, l'integrazione nei club, nelle attività degli studenti, attraverso lo sport, eccetera. La funzione militante dell'organizzazione di questo programma, questo programma è basato su un'associazione di studenti, che è un'associazione che ha un rapporto chiaro e un contratto con l'Ecole Normale. Dunque questa associazione ha anche una posizione militante che vuole sia aiutare gli studenti invitati, ma anche meglio comprendere le problematiche migratorie e creare le condizioni di una lotta collettiva per i diritti degli esiliati. L'originalità del programma inizia con le condizioni di ingresso in questo tipo di corso. Benché si richiedano due anni di istruzione superiore nel Paese d'origine ed una reale volontà dell'interessato a portare avanti un progetto di studio in Francia, accettiamo gli studenti senza voler sapere quale sia la loro situazione amministrativa. Questa scelta, che non ha mancato di creare attritti nel momento in cui è stata adottata, riflette una posizione di principio della parte della scuola. L'Ecole pensa che il suo dovere è essere incaricato dell'accesso agli studi e che ci sono altri enti pubblici che devono gestire la condizione delle situazioni amministrative. Non va negato che per alcuni studenti invitati un piccolo badge di plastico dell'Ecole Normale Superiore, quello che apre l'ingresso dell'Ecole, è talvolta l'unico documento ufficiale su cui possono contare in attesa di chiarimenti della loro situazione amministrativa. Ogni studente invitato viene accolto all'Ecole nell'ambito di un trinomio composto da uno studente dell'Ecole, un normalista, e da un docente. Ha accesso a tutti i corsi come uditore libero, oltre che alle biblioteche, e può consumare gratuitamente i pasti in mensa. In pratica, il tandem instaurato tra lo studente invitato e l'allieve dell'Ecole si articolerà in gran parte sull'insegnamento del francese. Il programma è attivo dal 2015, con 40 studenti invitati su base permanente, sempre sotto la responsabilità di questo gruppo di studenti dell'Ecole Normale Superiore e sulla nostra supervisione, sulla supervisione della direzione dell'Ecole, l'Ecole che garantisce il sostegno finanziario, oltre al sostegno offerto da un certo numero di mecenati. Ogni anno, una quindicina di studenti invitati riesce a riprendere il ciclo di studi universitari. Uno di essi ha sostenuto l'esame di ammissione preso di noi nella nostra Ecole, purtroppo senza successo, ma so che è il sogno di molti altri e attendo con impazienza il giorno in cui avremo uno degli studenti invitati che riuscirà il concorso per diventare normalista. L'intera partecipazione al programma è basata sul volontariato, con circa 120 persone dell'Ecole studenti che sono coinvolti ogni anno. In particolare, sono mobilitati gli insegnanti di francese come lingua straniera, come disciplina accademica, coinvolti attraverso i rispettivi corsi di lingua e cultura francese, ma anche fornendo ai normalisti coinvolti nel programma nozioni sull'insegnamento del francese come lingua straniera. Essi quindi formano i formatori, secondo una buona tradizione del nostro istituto. Sebbene mi sia soffermato a lungo sul programma per studenti dell'Ecole, dell'Ecole normale, rapidamente gli sono succeduti molti altri programmi simili. L'apertura è stata notevole in tutte le università e le grandi écoles, luoghi dedicati all'incontro, alla scoperta, alla condivisione di idee, alle riflessioni. La comunità studentesca francese si è particolarmente impegnata nella causa di accoglienza di ricercatori e studenti migranti. a partire dal 2015 sono stati creati una moltitudine di sistemi di accoglienza. Non farò tutta una lista, ma potrei dire un programma di studenti invitati molto simile al nostro che è stato creato pochi mesi dopo all'Ecole des Arts Decoratives, un programma di studenti in esilio all'Ecole des Arts Decoratives, Sociale, varie associazioni, varie università, l'Università Paris IV, l'Università Paris VIII, Paris X e un po' più tardi è venuta la creazione di vari diplomi universitari dedicati agli studenti rifugiati, come il diploma universitario che si chiama RESPE nell'Università Paris V. La maggior parte di queste azioni ha un duplice obiettivo, non solo garantire che gli studenti rifugiati riprendano gli studi, ma anche e soprattutto svolgere un ruolo guida affinché lo Stato prenda in considerazione il problema dell'accoglienza dei ricercatori e dei studenti migrati e definisca un quadro istituzionale di intervento. Rapidamente è stata creata una federazione di associazioni, fondamentalmente in quasi tutte le istituzioni ci sono state create delle associazioni di studenti, diciamo. E poi il legame fra l'istituzione e l'associazione, questo dipende un po' di quello che succede in vari luoghi. Questa federazione di associazione che si chiama il RESOM, viene dalla parola francese RESO, études superiores e orientations des migrants et exilés, questo RESOM è un collettivo che riunisce una rete di associazioni, gruppi informali, professori e persone solidali che operano a fianchi dei rifugiati e dei migranti. Non ho le ultime cifre ma l'anno scorso erano centinaia, quasi mille studenti rifugiati che erano coinvolti in uno di questi programmi coordinati dal RESOM. Le azioni del RESOM sono molteplici e mirano a promuovere la creazione di programmi di integrazione allestito il RESOM e allestito sportelli permanenti dove gli aderenti al collettivo si sono occupati di fornire informazioni sia sul programma di ripresa degli studi di apprendimento del francese ma anche per orientarsi nel dedallo delle strutture amministrative che sono molto complicate diciamo sapere come orientarsi in questo dedallo. Tra le altre azioni informativi si segnalano aiuto della redazione di curriculum lettere di motivazione eccetera eccetera. Ben che molto restia ancora da fare per quanto riguarda l'accoglienza degli studenti rifugiati il mondo accademico ha gradualmente tessuto una rete ancorata ad alcune istituzioni pilota e sostenuta da associazioni spesso create in questa occasione. L'intero sistema messo a punto in pochi anni ha dimostrato una certa efficacia. Questo schema di accoglienza fa eco a una serie di iniziative in occasione dei vari episodi migratori del XX secolo che hanno detto vita a grandi spostamenti di studenti. Ne illustrerò alcuni aspetti attingendo nel lavoro di Guillaume Tranchet ricercatore dell'Istituto di Storia Moderna e Contemporane nell'Ecole Normale e autore di un articolo sul tema aperto sulla rivista Monde nel 2019 su questo tema. Leggendo quest'articolo intitolato l'accoglienza degli studenti rifugiati nel XX secolo si scorge uno schema ricorrente in cui gli attori della società civile e del mondo accademico impegnati in prima persona in questa causa avviano in tempi rapidi una globalizzazione delle iniziative per far fronte alla massiccia immigrazione di ricercatori e studenti provenienti dai paesi teatro di guerra o di grandi transizioni politiche. Ecco alcuni esempi relativi ai principali conflitti del XX secolo. Nel 1914 e a partire dall'inizio della Prima Guerra Mondiana la Francia e il Regno Unito accolgono gli studenti belgi dopo le devastazioni commesse all'Ovagno dall'esercito tedesco. La Sorbonne e Cambridge si distinguono in particolare per l'accoglianza dei professori con messa a disposizione di auli di laboratori eccetera e degli studenti con l'esezione della tasse di iscrizione eccetera. E' ancora sotto l'impulso di due professori universitari che vengono create due università belghe delocalizzate nel 1915 nei Paesi Bassi. Nello stesso periodo vengono adottate numerose iniziative dalle università di Basilea Berna Friborgo e Lozana. Gli anni venti e l'esilio russo provocato dalla rivoluzione d'ottobre portarono sulle strade più di 15.000 studenti tra i due milioni di esulli divisi tra la Cecoslovacchia e la Jugoslavia di allora ma anche Bulgaria Germania e Francia. tutti i Paesi ospitanti che offrirono il loro sostegno finanziario e materiale. Le azioni in particolare del European Student Relief si svilupperano in circa 40 Paesi e questa associazione crescerà fino a contare un centinaio di dipendenti impegnati nella causa dell'organizzazione. Le azioni di questo tipo di ONG si dice ONG? L'organizzazione non governamentale di ONG permetteranno di esercitare un ruolo di leva di allerta di influencer diremmo oggi per mantenere viva la causa del sostegno agli studenti isiliati ed esercitare un'influenza sull'azione degli stati e delle organizzazioni internazionali. Dopo il 1933 e l'ascesa al potere del nazismo più di mille studenti tedeschi fuggirono dal nuovo regime e si ricarono a Ginevra Londra e Parigi. Alcuni di essi verranno accolti all'Ecole Normale Superiore nella mia istituzione dove il direttore dell'epoca Celestin Bouglet Bouglet che era seguace di Dreyfus e convinto internazionalista Bouglet intraprese un'azione molto vigorosa in questa direzione dell'accoglienza di questi studenti. Sotto la spinta delle iniziative studentesche gli Stati Uniti contribuirono indirettamente al loro sostegno attraverso il finanziamento di borse di studio e la raccolta di fondi in particolare a Harvard. Negli anni trenta un'intera rete di accoglienza dei professori stranieri minacciati fu creata intorno al Collège de France e sostenuta quando il fronte popolare salì al potere nel trentasei sostenuta da scienziati illuminati impegnati molto impegnati come Paul Langevin Emile Borel Jean Perrin Frédéric e Irene Joliot-Curie Tra i tanti colleghi che si impegnarono all'epoca va ricordato il nome di Louis Rapkin nato nel 1904 in Bielorussia che nel trentasei creò un comitato francese per l'accoglienza e il lavoro degli scienziati stranieri sul modello dell'Academic Assistance Council presieduto in Inghilterra da Rutherford. Rapkin a quest'epoca non aveva la cittadinanza francese dunque aveva creato tutto questo comitato rimandando nascosto l'ha messo in mani a tanti altri colleghi però era lui che organizzava tutto perché era troppo rischioso di coordinare questo ufficialmente senza essere un cittadino. Durante la seconda guerra mondiale l'azione a favore dei rifugiati si sposta negli Stati Uniti comitati di raccolta fondi e organizzazioni studentesche americane uniscono le forze in aiuto degli studenti vittime della guerra in Europa in particolare con aiuti materiali e visti per gli studenti ebrei affinché potessero lasciare la Francia e raggiungere la Svizzera. Agli domani del conflitto il congresso americano in vertù del Displaced Person Act del 1948 quasi 400 studenti rifugiati saranno ammessi gratuitamente nelle università americane tra il 49 e il 51 questo processo di uno Stato che si appoggia alle iniziative della società civile e nel nostro caso alle iniziative della comunità accademica si è concretizzato in questi ultimi anni anche in Francia vi abbiamo assistito per quanto riguarda l'accoglienza degli studenti ma vorrei ora parlare brevemente dell'accoglienza dei ricercatori e dei professori annunciato nell'ottobre 2016 dal segretario di Stato per l'istruzione superiore e la ricerca in occasione del simposio migrazione rifugiati esilio al Collège de France il programma POSE è un ambizioso piano nazionale avviato da colleghi con l'immediato sostegno dello Stato che attualmente stanzia un budget di 2 milioni di euro all'anno oltre che di mecenati del mondo economico coordinato dal Collège de France e basato su una rete di 76 istituti di istruzione superiore e di ricerca fra i quali l'Economal questo programma mira a favorire l'accoglienza degli scienziati in situazioni di emergenza per periodi sufficientemente lunghi da permettere la loro integrazione e garantire la continuità del loro lavoro al termine di un processo di valutazione il programma eroga fondi di incentivazione agli istituti di istruzione superiori e alle organizzazioni di ricerca francesi impegnati a reclutare scienziati a rischio e a dargli a offrirli delle posizioni temporanee e a sostenirli nel loro inserimento professionale e personale questo funziona sulla base di una posizione di un anno o due anni che viene proposta nell'istituzione per esempio alle col che abbiamo avuto così accogliate così alcuni colleghi turchi e una parte dello stipendio viene finanziato dal programma POS più di 200 più di 200 colleghi sono stati accolti in questo contesto di cui un terzo sono dottorandi e un quarto sono ricercatori confermati e professori universitari la maggior parte dei quali a livello di post-dottorato e professore associato nel 2018 si assiste a un potenziamento della strategia dello Stato nell'accoglienza e nell'integrazione dei rifugiati nel testo introduttivo del documento ufficiale diffuso dal governo francese si legge che oggi occorre dare priorità all'integrazione di uomini donne e minori accolti sul nostro territorio per un insediamento duraturo in questo contesto sono state annunciate una serie di misure di sostegno tra cui l'accesso a determinate condizioni a borse di studio basate su criteri sociali l'accesso è stato aperto agli studenti rifugiati il sostegno continuo al programma POS e l'introduzione di specifici diplomi universitari per i rifugiati istituiti in ogni università volontaria e riconosciuti dal ministerio dell'istruzione superiore dalle iniziative individuali alla graduale assunzione di responsabilità da parte dello Stato si sta quindi assistendo all'attuazione di una linea politica anche se la percezione dei rifugiati da parte della popolazione nel suo complesso e del mondo politico in particolare e ben lunghi dall'essere cambiata è chiaro che tutti gli attori dei numerosi programmi accademici di accoglianza sul campo dei rifugiati sono altrettanti testimoni in grado di attestare la rilevanza di questo approccio nonché la forza e la ricchezza del contributo degli studenti e ricercatori stranieri nella nostra società in un paese centralizzato come la Francia sebbene l'iniziativa spesso se non sempre provenga da gruppi di accademici e studenti istituzioni di istruzioni superiori e associazioni il sostegno dello Stato in termini di strutturi e di contributi finanziari è importante sia per lo sviluppo che per la continuità lo si può constatare con il programma Paus finanziato dal governo purtroppo oggi al pari di quando furono accolti i licenziati degli anni 30 questo sostegno non è sufficiente a creare posti di lavoro permanenti dunque il programma Paus permette ai colleghi oppressi nei rispettivi paesi di trovare una via d'uscita e un'accoglienza universitaria per un anno o due prima di intraprendere un nuovo percorso professionale vorrei forse avvicinarmi alla conclusione dandovi un ultimo esempio di quello che abbiamo provato di fare che è un esempio voglio presentarlo riallacciandomi all'Italia e vorrei citare un ricordo che mi sta molto a cuore il 6 marzo il 6 marzo scorso del 2019 ho avuto l'immenso piacere di organizzare con il nostro collega Nuccio Ordine dell'Università di Calabria un convegno dibattito che abbiamo organizzato con Mimmo Lucano che è l'ex sindaco di Riace e Wim Wenders quello che fa i film un convegno dibattito sul tema Riace un'esperienza di accoglienza dei migranti nel Mediterraneo Wim Wenders ha presentato il suo magnifico documentario Il Volo non so se l'avete visto ma se non l'avete visto lo raccomando tanto il nostro anfiteatro gremito di partecipanti ha dimostrato ancora una volta come già l'avevamo notato nel 2015 in occasione dell'appello a trovare volontari per il nostro programma studenti invitati è stato dimostrato una nuova volta che la comunità accademica sa come mobilitarsi su questi temi mobilitarsi attraverso un doppio percorso di riflessione e di azione dovrei menzionare qui ho dato l'accento nel mio discorso sull'azione perché mi pare che è una cosa molto importante ma anche in parallelo avevo menzionato questi seminari avevo menzionato nel discorso il primo seminario che abbiamo avuto abbiamo avuto regolarmente dei seminari dedicati a l'osservazione della situazione e anche l'osservazione critica dell'azione del mondo accademico per l'accoglienza di migranti attraverso questo doppio percorso di riflessione e di azione secondo me questo è il ruolo che noi come istituzioni accademiche possiamo svolgere e sono abbastanza orgoglioso di aderire a questo approccio vi ringrazio per l'adezione grazie